Amici di Marcosbox, benvenuti in questa 45esima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando di Canonical e della sua nuova edizione di Ubuntu, chiamata Ubuntu Pro. Che cos'è Ubuntu Pro? È una versione cloud di Ubuntu dedicata ad Amazon Web Services. Le immagini sono disponibili su Amazon Web Services Marketplace e disponibili in tre edizioni, in tre varianti. Quella basata sulla 14.04 LTS, quella basata sulla 16.04 LTS e infine quella basata sull'ultima LTS stabile che è la 18.04. Ubuntu Pro incode tutte quante le ottimizzazioni che già abbiamo visto su Ubuntu Amazon Machine Images, oltre ad offrire alcune particolarità, come per esempio 10 anni di aggiornamento di pacchetti di manutenzione per la sicurezza. Questi 10 anni valgono soltanto per l'edizione 18.04 LTS, le restanti edizioni hanno soltanto 8 anni, soltanto si fa per dire. La funzionalità del Kerner Live Patch, che consente di applicare patch di sicurezza senza riavviare, questa funzionalità, in questo caso va specificato anche che non è disponibile per le immagini basate sulla 14.04 LTS, copertura di patch per tutte quanto l'infrastruttura di Ubuntu, ripositori di applicazioni e quant'altro, ed offre infine integrazioni con le funzionalità di sicurezza e conformità AWS, tra cui AWS Security Hub e AWS Cloud Trail. Su Marcos Box trovate il link al blog di Canonical con maggiori informazioni su questa versione di Ubuntu dedicata appunto ad Amazon Web Service. Restiamo a parlare di Ubuntu, facciamolo però dedicandoci a quella che è una nuova edizione di Ubuntu non ufficiale, una nuova derivata non ufficiale di Ubuntu, chiamata Ubuntu Cinnamon. È una nuova variante di Ubuntu nata dalla mente di Joshua Pesach, spero di aver pronunciato bene, che ha appunto annunciato il rilascio di questa nuova edizione basata su Cinnamon 4.0.10 e Ubuntu 19.10. La differenza rispetto a Linux Mint è che questa edizione di Ubuntu, Ubuntu Cinnamon, avrà rilasci semestrali, quindi non come Linux Mint che mantiene la base dell'ETS e poi aggiorna semestralmente mantenendo sempre però la base dell'ETS. Quindi che cosa significa? Insordone significa che sarà costantemente aggiornata nel parco software, parco software base, e a livello di kernel, stack hardware e quant'altro. L'installer che è stato scelto è quello di Ubuntu che è stato forcato, praticamente su Ubuntu, non so se lo sapete, trovate Calamares come installer, è stato forcato quindi è stato riadattato per Ubuntu Cinnamon. Altra caratteristica che lo differenzia dall'edizione Linux Mint è che c'è un tema che è stato sviluppato, trovate poi anche i riferimenti su GitHub qualora vogliate usarlo su Linux Mint o su altre distribuzioni che hanno Cinnamon come desktop environment, dicevamo il tema è un tema sviluppato tutto quanto in casa, chiamato Kimmo, che comprende ossia un tema GTK che un set di icone. Cosa carina, finalmente, anche loro si attengono ai dettami del rilascio icone soltanto per cartelle e qualche altra cosa, non vado a sovrascrivere con il set di icone i programmi di terze parti, cosa che io odio, odio particolarmente, ed è uno dei motivi, è una delle cose che odio di più di Linux Mint, ad esempio, che va con quel tema di icone a sovrascrivere tutte quante le icone di terze parti, con icone che, diciamo, sono francamente orribili. Non sappiamo se Ubuntu Cinnamon, se diventerà mai una dei frameworks ufficiali, se manterrà anche questo nome, perché alcuni hanno proposto anche altri nomi più carini per questa distribuzione. Sul blog, comunque, trovate le informazioni relative a questo distro dal sito internet, la pagina GitHub, il gruppo Telegram, il profilo Twitter, e anche le informazioni su dove scaricarla, qualora vogliate provarla. Io spero di provarla a breve, ho già scaricato le immagini, magari faccio, in questo caso, soltanto una macchina virtuale e faccio un rapido giro, perché non mi va di stare a formattare per mettere distribuzione, ho cambiato computer da poco, quindi per adesso voglio tenerlo, diciamo così, lontano dalla mia aggiornita. Ho installato, poi chiudo la parentesi, ho installato Ubuntu 19.10 e Windows in dual boot, per un po' preferisco restare in casa canonica, restare su quella distribuzione e non stare a fare il cambio di distribuzioni ogni giorno. Comunque, vedrò magari di provarla su macchina virtuale o di riesumare l'altro computer per fare qualche test su questa nuova edizione di Ubuntu, edizione non ufficiale. Una notizia che questa settimana ha fatto discutere molto e che è stata poi ribiesa anche dai media nazionali, perché io questa notizia l'ho presa dal TG1 la mattina guardando il telegiornale, è una decisione che arriva da parte del governo cinese. Entro il 2022 tutti i PC della pubblica amministrazione cinese potranno usare soltanto componenti e software cinesi. Questa è la nuova tappa della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina che si riprotrava ormai a diverso tempo tra Dazi e Ban, che sapete bene che gli Stati Uniti hanno fatto un ban, che praticamente gli hanno tappato le ali a diverse aziende cinesi, come Huawei, la più grande, che non può più proporre Android sui nuovi terminali. vengono fatte le prologue ogni tanto, però di fatto il ban c'è e ancora non viene rimosso ufficialmente. La decisione della Cina è quella appunto di migrare tutti i computer della pubblica amministrazione nel 2022, avverrà per tappe naturalmente, i computer della pubblica amministrazione cinesi potranno utilizzare soltanto componenti di computer costruiti da aziende cinesi, fabbricati da aziende cinesi, e cosa è più importante, con sistemi operativi e software cinesi. Quindi ban totale da parte della Cina nei confronti di tecnologia statunitense. La Cina già produce una serie di processori X86-64 chiamata Zao Xin, non hanno, diciamo così, non sono equiparabili agli AMD o agli Intel, però comunque già riproduce, lato ARM, abbiamo Huawei che produce degli ottimi processori in casa, lato software, cosa potremo vedere, cosa ci possiamo aspettare? Beh, sicuramente vedremo una distribuzione cinese basata su Linux. Due sono, a mio avviso, quelle più papabili. La prima è Kirin, Kirin che nasce come sistema operativo sviluppato dalla National University of Defense Technology della Repubblica Popolare Cinese nel 2001. La prima versione di questa distribuzione era basata su FreeBSD, poi successivamente fu portata con i kernel Linux, diventando una Linux-based. C'è poi un progetto separato che è Ubuntu Kirin, che non va confuso con Kirin vero e proprio, quindi con questa distribuzione. Questa distribuzione che poi nel corso degli anni si è evoluta in qualcos'altro, perché praticamente si è evoluta in Kirin Sec, che è un sistema operativo desktop Linux, che fa l'utilizzo anche di Gnome per l'interfaccia, per come desktop environment, e utilizza VPS Office, che è la suite d'ufficio cinese, che troviamo preinstallato anche su altre distribuzioni, come ad esempio Deepin Linux. E proprio Deepin Linux è anche l'altra papabile, a mio avviso. Deepin Linux negli ultimi tempi sta avendo una crescita esponenziale, potenziale sta stravolgendo il suo layout, segno che c'è molta attenzione, ci sono molta attenzione anche da parte degli sviluppatori, ma anche un ritorno economico, molto probabilmente. Un ritorno economico che sappiamo già sta avvenendo, anche grazie ad aziende di terze parti, perché Huawei propone computer con Deepin Linux preinstallato, quindi significa che c'è un'attenzione anche da parte di aziende cinesi nel proporre questo sistema. A mio avviso potrebbe benissimo essere Deepin Linux la scelta del governo cinese come distribuzione cinese da utilizzare su computer della pubblica amministrazione, che poi sapete bene come funziona la Cina. Sì, c'è la pubblica amministrazione, ma ci sono poi le aziende partner che devono collaborare con la pubblica amministrazione, quelle private, tra virgolette, che quasi sicuramente saranno anche loro costretti a utilizzare sistemi operativi e software cinese per poter collaborare con le agenzie governative della pubblica amministrazione cinese. Quindi, secondo me, questa scelta da parte della Repubblica Popolare Cinese sarà molto importante, porterà molte energie anche in termini di sviluppatori, sia nel software libero, penso, tramite applicazioni, ma anche a livello di kernel, contributi per kernel e quant'altro. Perché? Perché la Cina è una potenza, la Cina può essere una di quelle nazioni in grado di supportare un sistema operativo Linux, la Cina è anche quella nazione che, avendo un bacino così grande di utenti, può portare mano d'opera che possa contribuire alla scrittura di codice. So che alcuni di voi inizieranno a dire eh ma non mi fido della Cina, non mi fido di quant'altro, e qua non è questione di fidarsi di non fidarsi della Cina, qua è, di fatto noi non ci fidiamo nemmeno nemmeno degli Stati Uniti, nemmeno di aziende software come Kaspersky, basta pensare al bando di Kaspersky, che gli USA hanno fatto qualche tempo fa, qui tutti spiano tutti. Quello che a noi ci salva come mondo dei software libero open source è che qualsiasi codice è in codice aperto, se viene rilasciato sotto forma di codice aperto, noi lo possiamo analizzare e ci sarà di sicuro qualcuno in grado di vedere eventuali backdoor, eventuali cose rosche e quant'altro, quindi questo mi fa dormire sogni tranquilli. Vedremo come si evolverà nel tempo questa cosa e vedremo nei prossimi anni quale sarà la distribuzione scelta. Ultima notizia riguarda la prima applicazione Office 365 di Microsoft a sbarcare ufficialmente su Linux. Microsoft ama Linux. Sapete questo tormentone che va avanti un po' da diverso tempo, grazie all'interesse di Satya Nardella che ha fatto un'apertura al mondo del software libero, al mondo di Linux, con contribuzioni, con rilascio di applicativi anche per Linux e quant'altro. Bene, Microsoft l'altro giorno ha annunciato il rilascio della prima anteprima pubblica di Microsoft Teams per Linux. viene rilasciato sotto forma di pacchetto DEB e sotto forma di pacchetto RPM, quindi facilmente installabile, con un'interfaccia grafica che di fatto è uguale alla edizione che abbiamo su Microsoft Windows, quindi non ci sono rinunce da fare, dato estetico, funzionalità nemmeno, perché questa prima edizione di Microsoft Teams per Linux offre le stesse funzionalità dell'edizione per Windows, quindi sapete come funziona questa applicazione. Microsoft Teams per Linux fa parte del pacchetto Office 365 e consente di collaborare tra gli utenti di una stessa compagnia, diciamo così, e rilisci in un solo luogo tutte le funzioni di chat, riunioni, gestione file, applicazioni, tutto in un'unica posizione per poter collaborare al meglio. Anche se non disponiamo di un abbonamento commerciale ad Office 365, possiamo comunque provare Microsoft Teams gratuitamente. Su Marcosbox trovate poi il link dove ci sono al post ufficiale di Microsoft e anche requisiti tecnici per Office 365. Cavallo di Troia? Eh, tutti quanti, so già che è tutti quanti quello che stanno pensando, non lo so, a cavallo donato non si guarda in bocca, però, ripeto anche il mantra che ho ripetuto commentando la precedente notizia, a cavallo donato non si guarda in bocca, però noi utenti Linux, utenti del software libero, sappiamo, abbiamo sempre gli occhi ben aperti, le antenne ben drizzate, per cercare di vedere eventuali intrusioni moleste e quant'altro, quindi, siamo adulti e vaccinati, siamo forti, non dobbiamo temere eventuali eventuali intrusioni di terze parti, quindi, state tranquilli, dormite sogni tranquilli, perché la comunità vigila per tutti. Bene, con questo è concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!